Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo che siano pronosticati i qualificati alla seconda fase della puntata numero 7 del camp della scommessa. Dovevano pronosticare due partite a testa dei campionati principali come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e tele serie SREB come da regolamento, con quota non inferiore a 1,45, che giocheranno questo fine settimana da venerdì 22 a lunedì 25 febbraio. Chi non ha commentato il proprio pronostico, endo le 14 di oggi, oppure ha pronosticato una partita già pubblicata da un altro prima di lui, sarà automaticamente eliminato e non parteciperà alla seconda fase di questo gioco della scommessa numero 7. Ma adesso andiamo a vedere cosa hanno pronosticato i partecipanti ancora in gioco. Io intanto ho preparato l'elenco verificando le quote sul sito www.scommettendo.it. Il primo partecipante, Andrea Campese, ha pronosticato Frosinone-Roma 2 a 1,47 e Bologna-Juventus 2 a 1,48. Poi abbiamo Fabio Crudele, Levante-Real Madrid 2 a 1,57 e Samodoria-Cagliari 1 a 1,85. Poi abbiamo Alessandro Crudo, Manchester United-Liverpool X o Goal a 1,52 e Borussia Dortmund-Bayern-Liverkusen gol più over a 1,65. Poi abbiamo Ruggero-Marzocca, Leicester City-Crystal Palace 1 a 2,20 e Perugia-Cosenza 1 a 1,88. Poi abbiamo Gianni Carbone, Brescia-Crotone over 1,5 casa a 1,87 e Sevilla-Barcellona over a 1,50. Andiamo avanti. Angelo Di Corato, Getà-Ferraio-Vallecano 1 a 1,75 e Arsenal-Southampton 1 a 1,46. Poi abbiamo Giovanni Di Corato, Milan-Empoli over 1,5 casa a 1,46 e Fiorentina-Inter, casa primo tempo no a 1,55. C'è che non deve segnare la Fiorentina al primo tempo. Gianni Persia, Parma-Napoli 2 a 1,51 e Foggia-Benevento gol a 1,78. Poi abbiamo Giuseppe Di Viccaro, Atletico Madrid, Villareal 1 a 1,62. Monaco-Limpic Lyon over a 1,60. Francesco Buono non ha pronosticato le proprie partite e dunque viene eliminato da questa fase. Poi abbiamo... un attimo che sistemo... ecco qua. Poi abbiamo Cosimo Di Viccaro, Kivo over 1 a Genua 1x a 1,56 e Torino-Atalanta gol o over a 1,55. Infine Cosimo Colucci, Giruna-Real Sociedad, x2 over 1,5 a quota 2 e Lipsi a Offenheim 1x e over a 2,5 a 1,80. Allora, le partite pronosticate sono 2,4,6,8,10, 12,14,16,18,20,22 e nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti il premio sarà un tablet 4 giga di RAM. In caso contrario il gioco continuerà solo per coloro che indovineranno tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Vi ricordo che ogni mercoledì sarà sempre un nuovo gioco, dove tutti potete prostricare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!